Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, La Russa, Rocatelli, Lo Sacco, Lotti, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Mazziotti, Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pesse, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Raracci, Rosato, Rughetti, Sani, Scaffarotto, Tabacci, Valeria Valente e Vignali sono in missione a correre dalla ripresa notturna della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 105, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'alleato a resoconto della seduta odierna. Riprendiamo la seduta e ridiamo la parola al Vice Presidente della Commissione Bilancio. Sì, grazie Presidente. La Commissione riunita sta definendo le ultime refiniture, se vogliamo chiamarle così, al testo e quindi chiediamo un ulteriore rinvio dell'Aula fino alle 21.30, direi. La ringrazio, onorevole. La parola, onorevole Russo. Su cosa, onorevole Russo? Presidente, volevo capire qual era l'avverbio che sarebbe stato utilizzato ora, almeno o altro avverbio? Mi pare di capire che la richiesta è di rinviare alle 21.30, poi come lei sa, onorevole Russo, essendo un deputato e un parlamentare che ha vissuto anche altri momenti questa legislatura, la nostra certezza è sempre appesa a un filo, quindi vedremo che cosa succede nel lavoro di Commissione. La seduta è sospesa e riprenderà alle 21.30. Grazie. 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 Grazie.